Ciao a tutti, oggi finalmente è tornato il sole, finita la pasquetta, quindi un sole che spacca le pietre. Tanto vabbè, non dovevamo andare a fare la grigliata, quindi ieri è andata bene lo stesso, almeno. Noi abbiamo mangiato l'insalata russa, non mi ricordo cos'altro, io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri ragazzi. Comunque, andiamo avanti, sorvoliamo con cibi e bevande, spero che avete passato comunque sia una buona pasquetta, e anche un'ottima pasqua. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi lasciamo un po' la parte, diciamo, della magia, della stregoneria, chiamatela come volete, e andiamo invece negli antichi rimedi della nonna. Comunque sia, come penso di avere già detto, una volta, diciamo, le streghe di paese erano, come dire, quando si aveva un problema, sia di salute che di amore, voglio sapere il futuro, qualunque cosa, si andava a rivolgersi per l'appunto a loro, che diciamo erano le vecchie arboristerie, si può dire così. Allora, oggi come oggi mi sparano, se qualcuno vede sto video, quindi non denunciatemi, io come al solito faccio le cose per me, e racconto le cose che faceva la mia nonna, all'epoca, e che abbiamo, che ha tramandato, giustamente. Allora, qua cos'ho? Ho dell'aglio, che me lo sono già preparato, per non farvi vedere tutta la parte del pestello, eccetera, eccetera, visto che già ieri, o no, l'altro ieri, quando è stato con il, ieri, con il, scusse, era con i gusci delle uova, vi ho già abbastanza torturato con sto pestello, quindi oggi mi sono portato avanti. Quindi, aglio, l'aglio è una pianta di grande potere, si è magia, che è in arboristeria, chiamiamola nelle cure, comunque sia. E l'aglio fa tantissime cose. Allora, questo sistema qui, diciamo che mia nonna più che altro lo usavano più per i raffreddori, per togliere appunto tutti i residui di buco dal corpo, e comunque sia quando serviva il potere dell'aglio all'interno del corpo. Quindi già fa bene, non so, regolarizza la pressione, aspettate, io queste cose qua, lo sapete che non è, io sono giusto la parte dei bronchi e della tosse, perché da bambino ero sempre con la bronchite. Quindi, allora, fa bene all'umore. Contro, ah, gli stati anemici, mette appetito, io da bambina mi rincorrevano, figuratevi io, che schifo l'aglio. Poi invece diventavo matta per le bruschette, che è una cosa assurda, che da noi si chiama la sumadai. Praticamente, adesso dirai un attimino, la sumadai sarebbe proprio la bruschetta pura l'aglio, quindi si metteva il pane sulla stufa rosolare, e poi si preleva l'aglio, vabbè, sbucciato, tolto, rispelato, sbucciato, tolta l'anima, e poi si fregava così, senza né pomodoro lì, è proprio pane e aglio. Questa noi in Piemonte si chiama la sumadai. Allora, poi fa bene, fa bene anche, vabbè, quando si ha raffreddore, l'ho detto, previene le trombosi, elimina il muco dal corpo, l'ho detto, fa bene i polmoni, regolarizza la pressione, vabbè, sì, un potente antisettico-antibiotico, comunque l'aglio fa bene per tantissime cose. Allora, oggi andiamo a fare praticamente una tintura madre di aglio alla fine dei corti. Quindi, cosa serve? Dell'alcol, quello per liquori, e il pestello, o se non avete il pestello, trituratelo con la mezzaluna, o con un coltello, l'importante è che lo fate a pezzettini piccoli 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 piccoli. Allora, sbucciate l'aglio, levate l'anima, lo fate diventare così, poi prendete un barattolino, lo mettete nel barattolino. Sì, potevo anche già metterlo nel barattolino, forse. Tanto io riesco a parlare anche senza aver niente da fare, davvero. Oltre ad essere la strega smemorina, sono la strega chiaccherona. Chi ha parlato come al telefono lo sa. Proprio come mi perdo in chiacchiere io, non c'è nessuno. Ok, allora, lo mettete dentro. Adesso, vabbè, forse ne ho fatto davvero pochino. Come vi regolate con le dosi? Allora, o contate i cucchiaini, anche lì, poi sarebbe da parlare tanto sui cucchiai, sui mestoli, non divaghiamo. Allora, prendete più o meno, vi rendete conto, lo mettete bello piano piano, cioè in piano nel senso, quindi, per dire, vedete che occupa tanto spazio così? Bene, ne andiamo ad aggiungere cinque parti di alcol. Adesso io andrò ad occhio, poi al massimo io ve ne aggiungo, perché questo qua lo sto facendo anche sinceramente anche per me, quindi, occhio e croce, più o meno, qua è uno, uno, due, tre, quattro, un goccino, occhio e croce, più o meno, diciamo, lo spazio che occupa l'alcol deve essere occupato per, allora, una pa... su cinque parti praticamente sono quattro parti di alcol, ecco, per capirci, quindi, questo spazio qui, ripetuto altre quattro volte, pieno di alcol. E poi cosa fate? Semplicemente lo chiudete, allora, potete tenerlo in frigo, cioè potete, c'è chi lo tiene in frigo, c'è chi lo tiene fuori, anche lì ci sono tutti i vari parti discordanti, l'unica cosa importante, come al solito, che tutti i giorni andate lì e lo remesciate, volessi dire remesciare, lo sbattete, lo agitate, fate quello che volete, una volta che appunto lo avete sbattuto bene bene, lo lasciate lì, una volta al giorno, una volta ogni due giorni, comunque l'importante è che più lo sbattete è meglio è, e poi passa il tempo, anche lì, come al solito, c'è chi dice 15 giorni, c'è chi dice una luna, scegliete voi cosa fare, comunque sia, allora, quando è passato il tempo, è pronto, potete decidere di, allora, c'è chi dice di prendere una goccia, oggi, a pranzo, che ne so, stamattina una goccia, a pranzo due gocce, a cena tre gocce, si va avanti così, fino ad arrivare alle 15 gocce, e poi si ritorna, noi sinceramente, lo prendevamo, semplicemente quando ce n'era bisogno, si faceva che ne so, una settimana, 10 giorni, 15, se ne prendeva, sarebbero 30 gocce, che più o meno, è un cucchiaino, quindi, cioè, un misurino, per me il misurino, il cucchiaino, o se no, il cucchiaio, in base ad altre cose, comunque, in questo caso qui, un cucchiaino, va benissimo, c'è da dire, che qualcuno dice, venire in Carlotta, alcol 90 gradi, l'alcol proprio quello, per fare i liquori, è fortissimo, io non ce la faccio a verlo, c'è l'altra soluzione, anche per quello, per chi lo sentisse troppo forte, quando sono passati, io faccio sempre stare una luna, qualunque cosa faccio, cosa si fa? Si prende, una parte di acqua, quindi, diciamo, lo stesso, più o meno, l'equivalente dell'aglio, che avete messo, lo mettete, in un pignatino, in un pentolino, lo fate bollire, proprio lo si, lo portate a bollizione, spegnete, lo fate raffreddare, quando è raffreddato, lo unite, e rimane un pelino, meno forte, adesso, meno lo volete forte, più acqua aggiungete, e consiglio, ah, il consiglio, di tenerlo in frigo, perché, perché, berlo freddo, quel cucchiaino lì, è molto meno fastidioso, che caldo, dà proprio quella sensazione, di ah, brucia, per dire, uno che non è abituato a bere degli alcolici, giustamente, dice, mamma mia, cosa mi hai dato, e, invece freddo, si riesce, appunto, scende giù, che è un pochettino meglio, adesso diciamo, che non è proprio, l'ideale per i bambini, nel vero senso della parola, però, appunto, c'è anche un altro sistema, è quello lì, per dire, adesso, beh, io non consiglio di darlo ai bambini, ma, funziona, a me lo davano così, mettiamola così, si fa una fettine, due tre fettine di aglio, sempre senza l'anima, si lascia nel bicchiere la sera, sta lì tutta la notte, il mattino, si tolgono le fettine, ci si può mettere del miele, a chi gli piace, ci si può mettere dello zucchero, se proprio non dà fastidio, ovviamente, lo riempivano di zucchero, perché io figura, ti bere ste cose lì, e si beve il bicchiere di acqua, così, e quello lì fa anche bene, appunto, per raffreddori, purifica, 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 purifica un po' tutto, mettiamola così, però, a me, da noi principalmente, diciamo che si usa appunto, per il raffreddore, per il catarro, e non mi viene in mente nient'altro, direi che, credo di avere detto tutto, adesso vedo, vedo cosa mi verrà in mente, per domani o per dopo, e, sì, direi che ho detto tutto, quindi, come al solito, vi saluto, rimane da fare quello, quindi, ciao a tutti, baci, ciao! grazie a tutti,